Ma io credo che sia un grandissimo momento di svolta, non penso che ci debba essere un'uscita dalla Gran Bretagna e dall'Unione Europea perché significherebbe una perdita enorme in primis per la Gran Bretagna e poi per un grande continente che è un competitor globale nel mondo perché l'Unione Europea rappresenta 500 milioni di abitanti, la parte più ricca del pianeta, compete con aree come gli Stati Uniti, l'Asia, il Medio Oriente, quindi credo che un'unità di questo genere non possa che far bene a noi tutti.